Dibattito sull'Università Aquilana in pieno svolgimento, in un panorama in cui emerge il calo di iscrizioni, crollo del 40% e nel quale la rettrice ha chiarito che non dipende dal ritorno al pagamento delle tasse, il sindaco Cialente, preoccupato per la situazione, chiama a raccolta il ministro Stefania Giannini, incontrata a Roma per parlare delle scuole. La vuole portare all'Aquila per farle valutare la reale situazione dell'Università, che ha rappresentato sempre la vera essenza della città dell'Aquila. Io ho delle preoccupazioni, l'Università sta applicando le regole dell'Università, peccato che in una città non c'è. Io alla ministra ho spiegato che in questo momento il nostro Ateneo non può competere, fra virgoletto, gli altri Atenei in una corsa nella quale gli altri indossano le scarpette adidas da pista e noi siamo con le ciabatte da mare. E su questo c'è attenzione, ha accettato l'invito di venire e faremo un incontro che penso, magari visto gli ultimi consigli comunali in cui mi si dicevano, e se arriva tardi telefonino e così via, sarà un incontro pubblico comunque importante. Per il sindaco Cialente all'Università Aquilana non si può pensare, come ad un Ateneo qualsiasi, i problemi del sisma, del non avere un centro, inevitabilmente, si ripercuotono su tutto, anche su questo.